Il settore agroalimentare è il primo settore in Europa, il secondo in Italia e la cosa più interessante è che tutti pensano che sia un settore agroalimentare un settore maturo, invece è un settore dinamico, pieno di innovazione anche nelle piccole e medie imprese. La sostenibilità è uno dei temi dell'innovazione, ma tantissimi altri sono i temi dell'innovazione agroalimentare, ad esempio la nutraceutica, la genetica, il packaging, i servizi al consumatore, l'informazione e tutte le cose che riguardano anche gli ingredienti del prodotto. Quindi l'alimentare diventerà sempre nuovo mantenendo la tradizione.